Il Catania strapa un meritato pareggio sul campo del lanciatissimo Vicenza, allenato dall'ex Pasquale Manino, che così manca la gancia al secondo posto. Partita giudiziosa disputata dai rossazzurri, che hanno rischiato solo in avvio, quando Gile ha salvato il risultato due volte, nello spazio di pochi secondi, opponendosi ai tiri ravvicinati di Laverone e Petagna, dopo un errato disimpegno di Capitano Capuano. Per il resto, la difesa etnea ha retto bene l'urto delle folate avversarie, rischiando ancora nel secondo tempo, quando sempre Capuano, ha rischiato grosso dopo aver trattenuto Spinazzola in piena area. L'arbitro però ha lasciato proseguire, non inferendo poi neanche su Auger, che è andato vicinissimo, secondo cartellino giallo. Negli interi 90 minuti i rossazzurri non hanno impensierito più di tanto il portiere Vicentino, che tuttavia è uscito tempestivamente sui piedi di Castro, lanciato a rete dall'imbeccata di Rosina. Il Catania allunga così la sua mini serie positiva, ma sabato prossimo a Chiavari bisognerà puntare con convinzione alla conquista dei tre punti in occasione dello scontro diretto proprio con Lentella. Il punticino strappato a Vicenza, per il momento, serve a tenere su buoni livelli il morale, in attesa di tempi migliori.